Ho fatto il meno 80% ma sono ancora in profitto. Come ho fatto te lo spiego nel video di oggi. Benvenuti a tutti ragazzi, io sono Mickey Business nel canale che ti segna come fare sempre più soldi online con marketing, business, trading, copy trading, metodi eccetera. Quindi se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale. Bentornati in una nuova puntata da 300 a 3000 con il copy trading qua su Bing X ragazzi. Ieri abbiamo fatto alcune operazioni negative, ne andiamo a vedere oggi, però siamo ancora in positivo. Quindi andiamo a parlare di cosa è successo e di come diciamo prevenire che si bruci il conto. Andiamo a vedere le motivazioni che nonostante abbia fatto un meno 80% eravamo a 360, siamo a 340 ragazzi. Quindi andiamo a parlarne. Prima di tutto vi voglio ricordare però che fare trading, fare copy trading è veramente rischioso. Ragazzi si può perdere tanto, si può vincere tanto, però si può guadagnare tanto, però ragazzi è molto pericoloso. Quindi fate le vostre ricerche, non sono consigli finanziari, questi sono video educativi, video di intrattenimento ragazzi. Però se volete provare il trading, il copy trading potete iscrivervi a Bing X con il primo link qua in descrizione. Avete il 10% di sconto di fee a vita ragazzi, molto molto importante, così risparmiate un sacco sulle commissioni. Perché quando fate trading o copy trading e comprate, vendete le crypto ragazzi c'è una commissione che si tiene l'exchange ovviamente. E quindi se voi avete il 10% di sconto nel lungo periodo risparmiate molto. Poi c'è una super challenge che sta andando e avete ancora 35 giorni per terminarla per i nuovi iscritti ragazzi. Quindi se vi iscrivete, primo link vi iscrivete, poi andate nel secondo link e c'è l'offerta limitata a tempo che potete fare fino a 7300 USDT. Come funziona? Ci sono dei vari task. Ho fatto un video a riguardo nello specifico, andatevelo a vedere quello sui 7300 USDT. Qua adesso vi do una spolverata veloce, poi andiamo diretti sul video. Allora ragazzi, praticamente depositate 50, ricevete 50. Il primo trade fate 8000 di volumi, ricevete 100. Questo qui per farlo è molto semplice, dovete usare la leva, anche se tipo mettete, che ne so, depositate 1000 dollari. 1000 dollari e leva 8 sono 8000, ok? Per fare un esempio. Poi ci sono tutti i vari futures trading volume, quindi se fate 50.000 di volume vi danno altri 50 bonus, poi ve ne danno 100 con 250.000, 300, 600 e 1000, ok? Cliccate sul link e guardate tutti i dettagli e vi iscrivete. Prima vi iscrivete ragazzi, meglio è perché avete 35 giorni di tempo in cui piano piano fate trading, fate copy trading, potete arrivare fino al super bonus da 1000 dollari. Ok ragazzi, altrimenti se arrivate all'ultimo per fare 2 milioni di volume, che ne so, dovete depositare, fatemi fare un calcolo veloce e depositate 100.000 euro e lo mettete a leva 20. È un po' assurdo, ok? Poi se voi volete depositare 100.000 euro e giocarveli a leva 20 e fare trading a leva 20, fate voi. Ok ragazzi, quindi link in descrizione, avete 35 giorni di tempo. Ok, adesso andiamo a vedere che cosa è successo, perché il nostro IBI ci ha fatto fare, abbiamo preso uno stop loss, che avevamo abbassato lo stop loss al meno 80% E qua cominciamo a dire, ma era il 40%, lui ci consigliava di mettere il 40%, avremmo, diciamo, fatto un meno 8 dollari invece che un meno 16. Sì, però lui in realtà, per esempio, adesso ha degli ordini attivi, questo qui è il meno 16, che magari tocca meno 40, però poi lo chiude in positivo, quindi non lo sappiamo questo. Io ho deciso di rischiare un po' di più e mettere lo stop loss a meno 80, ok ragazzi, è semplicemente più rischioso, ok? Voi fate le vostre considerazioni, andiamo poi dopo a vedere. Però voglio prima farvi vedere, abbiamo preso un meno 68, un meno 79, un più 1.4, un più 11, un più 18 e un più 21, ok ragazzi? E eravamo a 70 di profitto, siamo a 44, quindi com'è che non ho bruciato il conto col meno 80% perché abbiamo usato soltanto 20 dollari. Una cosa che consiglio sempre ragazzi è, voi volete fare copy trading, non potete andare a copiare, cioè mettete 300 dollari, non potete mettere un margine di 300 dollari. Sì, se l'operazione vi va bene, vi fa un 50%, passate da 300 a 450 subito, ma poi cosa succede? Che se vi va male un'operazione, da 300 vi bruciate l'80% e vi rimangono 60 dollari dopo. Quindi io metto sempre 20 massimo, quindi lui più di 20 a coppia non me li mette, ok? Apre tre opposizioni, sono 20, 20, 20, sono 60, ok? Quindi se quel giorno lui sbaglia e mi brucia le operazioni, sì, perdiamo un po' di profitto, ma siamo comunque sia in profitto e soprattutto non stiamo bruciando il conto, molto molto importante. Poi altre manovre che potete fare è mettere lo stop loss per non bruciare il conto e soprattutto mettere un massimo che si può usare. Per esempio, se lui apre 15, 20 operazioni, se noi gli diamo un limite lui ce li usa tutti i 300 dollari. Ma se voi volete dire, io voglio che mi usi massimo 60 dollari al giorno, allora andate qua e scrivete 60, ok? Voi voglio che mi usi massimo 20 dollari per coppia, e qui metti 20, metti 40, metti 60, metti quello che è il tuo rischio. Ok? Più andiamo ad aggiustare questi parametri, meno rischio corriamo. Ricordiamoci che il guadagno è direttamente proporzionale al rischio, cioè più rischiamo più possiamo guadagnare, però più possiamo perdere. Ok ragazzi, quindi state attenti, fate le vostre ricerche, come sempre. La leva è 5, qui stiamo seguendo esattamente quello che ci dice di fare lui, Ibi, e così. Lui ha un rischio di 4 in questo momento, era 3 ieri, adesso si è un po' alzato. Io vi consiglio di seguire dei trader che hanno massimo un rischio di 3-4. Ok? Perché quando andate a prendere dei trader molto rischiosi, potete guadagnare veramente tanto. Ok? Faccio vedere, però per esempio, andiamo a vedere questo qui, rischio 1. Rischio 1, lui vedi, va pienissimo questo C-Hat, C-M-A-L, non so come si pronuncia. Sto facendo trading da 6 anni, non sono un short term trader, le leva non più di 2-2,5, ti raccomando di usare il 10% del totale. Vedi, per esempio, lui è rischio 1, va su piano piano, ogni tanto va giù, va su piano piano, piano piano, però vedete ROI, rischio poco, in 180 giorni fa il 14%, che comunque è buonissimo, ragazzi, buonissimo, ok? E così, andiamo a vedere qualcuno di molto rischioso, per esempio, già questo è il rischio 5, rischio 5, rischio 6. Ok, se noi adesso andiamo a, dov'è, qua, filtra per, vediamo se non me lo fa per rischio. Andiamo a mettere il rischio 9, voglio vedere il rischio 9. Rischio 9, questo qui, vedete, fa ROI pazzeschi, però rischio 9, vedete, fa delle cose negative, cose positive, vedete voi, ragazzi, io non andrei sopra il 3-4, comunque, poi dopo decidete voi. Quindi il nostro IB, qua in questo momento c'è questi ordini qua, c'è questo ordine aperto, con su BB, USDT, diciamo non gli è andata proprio bene. Da quello che posso capire io, questo qui è un trader che praticamente va a vedere le altcoin, che sono, diciamo, in alto, le shorta aspettando il crollo. Vedete, tipo questo milionei doge, questi qui sono tutte meme coin, shit coin, e lui le shorta tutte, praticamente. A leva 5, infatti anche a leva 5 fare un più 39% è tanto, perché comunque leva 5 non è una leva esagerata. Abbiamo visto su questo canale delle leve 50, in cui si porta a casa il 40-50%, quindi se lui avesse usato una leva 50 qua sarebbe stato un più 390%, quindi lui veramente sta giocando con, sta facendo trading su delle altcoin pesissime, ragazzi, quindi usa la leva molto molto bassa. Quindi questo è l'aggiornamento di oggi su Bing X, vi ricordo ragazzi, se volete entrare, primo link, 10% di sconto a vita sulle trading fee, e poi avete il 35 giorni per completare la super challenge, 7300 premi, ok? 7300 di premi, quindi andate ragazzi e iscrivetevi ora, perché così avete 35 giorni per fare 2 milioni di volumi con il trading, il copy trading. Noi ci vediamo ad un prossimo video, se avete domande io rispondo a tutti, ragazzi, mettete mi piace, commentate, fate una giravolta, iscrivetevi al canale e soprattutto lucrate come sempre. Ci vediamo ragazzi e oggi è domenica, vi auguro anche buona domenica. Ciao ciao e se non è domenica perché stai guardando questo video lunedì, tieni la buona domenica per la domenica dopo, o quella prima, insomma, vedi tu. Buona domenica. Ciao ciao.